L'Ancona Calcio L'Ancona Calcio Il mondo della moda si lega bene a quello del calcio Innanzitutto una scelta del mio feggio stampa comunque affiancare le partite di serie A probabilmente a breve giro faremo anche la Fiorentina-Milan a conclusione credo del mese di dicembre però è vero il fatto che il mondo del calcio in questo momento ha molte attenzioni Il calciatore è un ottimo testimonial e quale miglior binomio tra lusso, sport e benessere è una scelta secondo me azzeccata Alla squadra Luca Paolo Rossi fornisce giacca, camicia, pantaloni e paltoni La sua strantoria è specializzata nell'abito su misura Il mondo della moda su misura non ha un percorso ben definito e da sempre attrae persone accomunate dal buon gusto e dal lusso perciò niente cose appariscenti, niente cose troppo sceniche ma comunque lusso che dura nel tempo non a caso molti clienti che comunque non mi venivano a trovare da diversi anni ritornano ora con delle giacche magari fatte qualche tempo fa e le trovo ancora in perfetta forma proprio questo, il bello di creare una cosa che dura nel tempo con un costo decisamente interessante